Musica Senza lavoro e con due figli da mantenere rapina a due banche in mezz'ora, protagonista un romano di 56 anni incensurato che si è introdotto nella filiale della Banca Popolare di Novara di via Santa Maria del Buon Consiglio, zona porta furba. Lì ha minacciato il vice direttore con una pistola rivelatasi poi essere un'arma giocattolo sprovvisto del tappo rosso per farsi consegnare il denaro delle casse senza sapere che in quel momento non c'erano soldi liquidi disponibili. A quel punto è fuggito e 20 minuti più tardi ha fatto irruzione in un'altra banca, la Carim, di piazza Re di Roma e con le stesse modalità è riuscito a farsi consegnare oltre 2000 euro. I carabinieri però sono riusciti a individuare il rapinatore e a bloccarlo sulle scale della fermata sub-Augusta della metro A.